Mercoledì 5 maggio 2010, Autodromo di Monza, siamo arrivati finalmente e questo è il nuovo bilico del team. Nuovo, 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 finalmente. Adesso vi farò vedere una chicca che abbiamo ideato per la gara di Monza. Tutto il pubblico, chiunque verrà nel paddock, avrà la possibilità di entrare dentro il box del team Supersonic. Adesso è tutto in disordine perché stiamo mettendo dentro, organizzando tutto. Qui comunque ci sarà, dove ci sono adesso i portagomme e la tabella di segnalazione, eccetera, eccetera, ci sarà un corridoio che permetterà a tutti i fan di poter praticamente entrare dentro al box, vedere i meccanici al lavoro, la pista, il box, il canopy. Insomma, praticamente potrete entrare dentro al box e vedere l'azione del weekend. Io sarò seduto lì, quello sarà lo schermo dei tempi, quindi questa è la chicca, la news che abbiamo pensato per i tantissimi fan che verranno qui a Monza. Ecco, questo era l'aggiornamento di oggi, quindi un saluto a tutti, vi aggiornerò venerdì, no, sabato, dopo le prove, adesso non lo so, quindi... Un saluto a tutti e venite numerosi perché l'acqua è venuta giù ma sembra che abbia smesso di piovere. Siamo a Monza, ce l'ho le prove. Monza. Laggiù c'è la prima variante e poi se riesco a questi giorni vi faccio vedere come l'hanno fatta. Un saluto a tutti, ciao. Un saluto a tutti.